Buonasera e benvenuti al nostro Tg che apriamo con la cronaca. Incidente mortale oggi a Cavriglia, dove un uomo di 60 anni ha perduto la vita nel crollo del solaio di un magazzino. L'uomo era andato nel magazzino con un furgone prestato dal fratello per prelevare uno strumento di lavoro piuttosto pesante. Una volta all'interno è salito in un locale ad uso ufficio realizzato in uno spazio controsoffittato. Secondo una prima ricostruzione, mentre stava cercando di spostare l'attrezzo, il pavimento sarebbe crollato e il sessantenne sarebbe precipitato. Nella caduta sarebbe stato travolto dall'attrezzo che stava spostando. Sul fatto sono in corso le indagini che dovranno fare esatta chiarezza sulla dinamica di quanto è accaduto. Martedì prossimo, 28 febbraio, è prevista la sentenza sul processo Coingas, una sentenza particolarmente attesa, viste le conseguenze politiche e amministrative che potrebbe generare. Arezzo sta vivendo con il fiato sospeso questi ultimi giorni che la separano dalla sentenza per il processo Coingas e Multiservizi, che vede 11 imputati ben noti nel panorama politico aretino a partire proprio dal primo cittadino Alessandro Ghinelli. Il tutto è partito dalle consulenze della partecipata del Comune per un totale di 400 mila euro. Il PM Roberto Rossi, prima di salutare per il nuovo incarico ad Ancona, ha proceduto alla richiesta delle pene senza fare sconti a nessuno. Per il filone del peculato ricordiamo la richiesta di 4 anni e 6 mesi, per l'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Rason, per l'ex presidente di Estra Francesco Macri e per il commercialista Marco Cocci. Per il reato di favoreggiamento Rossi ha chiesto la soluzione per il sindaco Ghinelli, l'assessore al bilancio Alberto Merelli, la segretaria di Coingas Mara Cacioli, il presidente della partecipata Franco Scortecci e l'avvocato del Comune di Arezzo Stefano Pasquini. Per l'inchiesta sulla multiservizi il PM ha riconfigurato il reato in corruzione chiedendo per il consigliere comunale Roberto Bardelli, 2 anni e 6 mesi, l'assoluzione per il presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi, 2 anni e 6 mesi per istigazione alla corruzione per l'ex presidente di Arezzo Multiservizi Luca Mendola e 8 mesi per favoreggiamento per Alessandro Ghinelli. Ultimo, ma assolutamente non da meno, il filone abuso d'ufficio con un anno e 6 mesi per Alessandro Ghinelli, Francesco Macri e Alberto Merelli, ricordando che un eventuale condanna per questo specifico reato per un sindaco comporterebbe la sospensione dall'incarico. Quello di oggi è stato il giorno delle primarie per il Partito Democratico, che è andato nei vari seggi allestiti dai volontari del PD, poteva decidere se votare per Stefano Bonaccini o per Ellie Schlein, per il nazionale, e poi passare alla scheda regionale dove ci sono i nomi di Valentina Mercati, corrispondente alla mozione Bonaccini, e di Emiliano Fossi, mozione Schlein. In serata sarà possibile conoscere i nomi degli eletti. I seggi che erano stati aperti stamani alle 8 si sono chiusi alle 20. Le primarie erano aperte agli iscritti, ma anche a tutti coloro che intendevano dare il proprio contributo per l'elezione del nuovo segretario nazionale del Partito e per scegliere la stessa carica in ambito toscano. Vince causa, apre conto a nome del cliente e si appropria del risarcimento. La vicenda che vede come protagonista un 57enne casentinese è approdata in tribunale ad Arezzo. Assiste il cliente nella causa per un incidente stradale, poi una volta arrivato il risarcimento lo incassa, prende un conto a nome del proprio assistito. È così che un 57enne casentinese, ha truffato un coetaneo fiorentino che, rivoltosi a lui per una pratica assicurativa, si è visto portare via oltre 13.000 euro. I fatti sono stati rievocati venerdì in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Pisto e al PM Albergotti, che ha sostenuto le accuse di sostituzione di persone e truffa a carico dell'imputato, un ex praticante avvocato. Secondo quanto emerso in aula, l'uomo, avendo tutti i dati del cliente, ha aperto un conto corrente su una banca online a nome dello stesso, facendosi consegnare bancomat e carta di credito. Successivamente ha scritto all'assicurazione, facendosi liquidare il danno sul conto appena aperto ed iniziando a spendere del tutto i soldi ricevuti. A scoprire l'inghippo è stato casualmente il cliente che, chiedendo un finanziamento alla propria banca, si è visto respingere lo stesso perché etichettato come cattivo pagatore. A quel punto l'uomo ha sporto denuncia ed emersa la truffa. Si è arrivati dunque al processo, che è stato aggiornato all'11 maggio per la sentenza. Adesso le condizioni del tempo. Come previsto, la neve è tornata a fare capolino nell'aretino con nevicate che hanno interessato le zone della Valtiberina e del Casentino, senza creare al momento difficoltà, pur rimanendo la necessità di percorrere i passi con equipaggiamenti adeguati. Queste sono immagini che si riferiscono a Badia Prataglia. In pianura piogge, ma situazione nel complesso sotto controllo. Dopo il peggioramento del tempo nelle ultime ore su tutta la Toscana, prosegue il codice giallo per neve e vento fino alle 12 di domani, lunedì. Lo ha comunicato la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale dopo l'analisi dei dati disponibili. In particolare, il codice giallo per neve riguarderà alcune zone orientali della regione, al confine con la Romagna e nella Valtiberina. E a proposito della Valtiberina, queste sono immagini della E45. Il vento batterà invece su tutta la Toscana, ad eccezione della parte più meridionale. Tragedia della strada sabato sera all'altezza del ponte di Pratantico. Un uomo di 58 anni ha perduto la vita in un incidente con lo scooter. Sgomento in città per l'incidente accaduto sabato sera sul regionale 69 del Valdarno, all'altezza del ponte di Pratantico. L'incidente ha costato la vita a Umberto Valtriani, 55 anni, volto conosciuto in città per essere da anni dipendente di un supermercato cittadino in via Alfieri. Valtriani, in sella al proprio scooter, forse a causa dell'asfalto scivoloso, ha perduto il controllo del mezzo finendo a terra e battendo con violenza la testa sullo spigolo del marciapiede del ponte. L'impatto è stato fatale, l'uomo è deceduto sul colpo. Il casco protettivo si è rotto. Lo scooter, dopo aver urtato il muretto del ponte, ha finito la sua corsa un centinaio di metri dopo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia. Gli agenti hanno eseguito i rilievi di legge, in particolare nel punto in cui la vittima ha colpito il cordolo del marciapiede. La salma è stata poi portata all'obitorio del Sandonato dagli operatori della misericordia. La notizia della morte di Valtriani ha suscitato dolore nei suoi cari e negli amici. Anche i colleghi di lavoro e i dirigenti della struttura commerciale hanno manifestato il loro dolore per la scomparsa di un collega ben voluto e stimato. Una fatalità che gli è costata la vita. Apriamo adesso una finestra verso l'Umbria, in particolare nella zona di Norcia. Il Borgo Alto è ancora zona rossa. A Campi di Norcia però c'è un centro di aggregazione dove l'amicizia significa ancora molto. Una cena con scambio di un olivo simbolo della pace ha suggellato ancora di più l'amicizia con Castiglion-Fiorentino. Un viaggio a Campi di Norcia per aggiungere un tassellino nell'amicizia tra Castiglion-Fiorentino ed il piccolo centro a 12 km da Norcia. È un ulteriore sigillo per questa bellissima amicizia che dura nel tempo. Quello olivo veramente, guarda, sono veramente commosso perché è una pianta bellissima, è una pianta piena di significati e ricevuta veramente da Castiglion-Fiorentino, da Mario e da tutti quanti voi assume ancora un significato più profondo di legame, di amicizia e di amore che dura nel tempo. In queste zone del terremoto era facile, le iniziative che sono state promosse a tutte le latitudini per solidarietà, soprattutto a ridosso di questi tragici avvenimenti, è un po' più complicato farla a distanza di sei anni e se uno viene a Campi di Norcia, anzi invito a venire in questa bellissima zona purtroppo dimenticata, per constatare che è tutto rimasto maledettamente come quella domenica mattina del 30 di ottobre e questo non può lasciare indifferenti. Una polentata ha suggellato una giornata in cui c'è stato tempo anche per fare un sopralluogo a Campi Alto, un paese rimasto fantasma. Tutta zona rossa, completamente disabitato, purtroppo tante parole ma i fatti ancora non li vediamo, tanto faremo, faremo questo, quello, quell'altro ma la realtà dei fatti è molto ben diversa, è quella che vedete. Nidi gratis in Toscana per i bambini con un'età fino a 3 anni e con Nise fino a 35.000 euro. La misura è stata illustrata nei dettagli nel corso di un evento al cinema alla Compagnia di Firenze. È un progetto che a partire dal settembre 2023 sarà pienamente operativo. La Giunta regionale ha approvato la delibera con gli elementi essenziali dell'avviso che servirà a sostenere la frequenza al nido di bambine e bambini di famiglie con ISE fino a 35.000 euro per l'anno 2023-24. L'intervento sarà finanziato con 40 milioni complessivi, 20 milioni per anno, tratti da risorse del Fondo Sociale Europeo. È un beneficio alle famiglie che mettono il bambino al nido da quando nasce a quando arriva ai tre anni in cui si integra con gli asili d'infanzia con una possibilità che può coprire secondo noi 10.000 famiglie in Toscana. Se poi le famiglie alla prova concreta possono essere di più, bene. Se poi da 35.000 possiamo passare a 40.000, altrettanto. Fra l'uso dei fondi sociali europei, che ogni regione può usare secondo i criteri, gli indirizzi che vuole, noi siamo l'unica regione che lo ha previsto e che ha visto approvare dalla Commissione Europea. Il contributo della regione integra il bonus nido erogato dall'Inps per ridurre la quota delle rette a carico delle famiglie. Ma mentre il bonus Inps viene concesso al rimborso, dopo che la retta è stata anticipata dalla famiglia, la regione ha deciso di integrare direttamente la quota che cede il rimborso Inps, praticando così una sorta di sconto. Questo è soprattutto una scelta dal forte valore educativo e pedagogico, perché sappiamo bene che il nido è il primo mattoncino per promuovere poi il successo scolastico, il successo personale successivo e anche lo strumento per combattere e prevenire abbandono, dispersione scolastica, disuguaglianze e povertà educative. Il tema del caro Bollette, la posizione di Feder Consumatori, l'iniziativa del Sindaco Ghinelli. Il Comitato Comunale del PD con il segretario Matteo Bracciali avanza tre proposte in materia. Siamo con Matteo Bracciali, segretario del Comitato Comunale del Partito Democratico. Una nota per quanto riguarda il problema delle bollette. Tra l'altro il Sindaco ha chiesto la convocazione di un'assemblea di Coingas apposita. Sì, bisogna ringraziare Feder Consumatori che si è preso carico di tanti utenti che hanno avuto bollette stratosferiche, soprattutto in funzione di due tariffazioni diverse, qualcuno più, migliaia di euro di utenze. Noi abbiamo, come dire, come Partito Democratico fatto tre proposte anche in vista proprio dell'assemblea dei soci di Coingas che è il socio di Estra per provare a sollevare un po' di peso dalle spalle dei cittadini. Le vostre proposte? Tre proposte. La prima è un fondo di ristori naturalmente legato al valore ISE familiare per tutte quelle persone che hanno avuto su quella tariffazione quel tipo di bollette. La seconda è il tema della rateizzazione di queste bollette. Noi abbiamo bisogno, non solamente come ha proposto Estra, di due rate, ma di allungare i piani finanziari di rientro e azzerando naturalmente gli oneri finanziari. Terza proposta è quella di un fondo di garanzia per l'RSA e le associazioni sportive, soprattutto che hanno avuto bollette stratosferiche, rischiano davvero di chiudere i battenti. Bilancio positivo per Esotica, la mostra di animali esotici ospitata a questo fine settimana ad Arezzo Fiere e Congressi. Vediamo insieme. Sono venuti molti al Centro Fiere e Congressi per vedere dal vivo questi animali, una parte dei quali in verità inconsueti per le nostre latitudini. Il fatto che siano stati diversi a visitare questa rassegna dimostra quantomeno la curiosità che esiste attorno a loro. Alla mostra sono stati presenti espositori nazionali e internazionali per la vendita di animali, accessori e servizi vari. Un modo quindi originale per mettere in vetrina specie non proprio familiari ai nostri occhi. Il bilancio è stato positivo, la due giorni ha avuto successo. La fiera rettile esotica a Arezzo si è sempre distinta per i suoi espositori. Essendo la principale manifestazione di animali esotici della Toscana da ormai dieci anni, gli espositori provengono da diverse località. Cani e gatti dunque non sono gli unici amici degli uomini, in molte case sono entrate tartarughe, furetti, pappagalli, sebbene più insoliti molti di questi animali sono diventati accompagnatori degli uomini, ma non tutti vengono considerati da compagnia. La definizione è ancora molto eterogenea nell'Unione Europea, ma i vari stati membri sono orientati a uniformare la classificazione e adottare regole uguali per tutti. Cala dunque il siparius esotica 2023. Dopo Arezzo il calendario degli eventi farà tappa nel nord Italia, prima a Vercelli e poi a Milano. Parliamo di sanità. Con il prossimo servizio il professor Pasquale Giuseppe Macri è stato nominato direttore del Centro regionale del rischio clinico. Per l'ASL, dicono il direttore generale d'Urzo e il direttore sanitario Simona Dei, è una nomina che premia l'operato di un grande professionista. Direttore, una nomina regionale importante, quella per il professor Pasquale Giuseppe Macri, che è diventato direttore della gestione del rischio clinico. Sicuramente una nomina importante, una nomina importante per il sistema sociosanitario toscano, ma una nomina importante anche per l'azienda USA Toscana Sud-Est, che vede uno dei suoi professionisti migliori collocato in un ambito regionale. Credo che la scelta del presidente Gianni sia la migliore scelta che poteva fare, perché si tratta di un professionista davvero si può dire top di gamma nella gestione del rischio clinico. Direttore Dei, la nomina di Pasquale Giuseppe Macri è importante anche perché si tratta di un professionista e sappiamo tutti quanto è difficile arrivare a rischio zero in sanità. Assolutamente sì, arrivare a rischio zero e soprattutto non dobbiamo mai pensare che senza segnalazioni noi siamo in sicurezza, anzi dobbiamo andare a cercare gli errori e quando li troviamo significa che lì abbiamo una possibilità di migliorare. Così lavoriamo in Sud-Est, così lavoriamo e stiamo lavorando anche con il professor Macri. Sono estremamente felice che uno di noi, grazie anche all'impegno che abbiamo messo come squadra in azienda, sia stato riconosciuto nei risultati ottenuti e nell'impegno e questo sicuramente favorirà le tappe successive dell'evoluzione all'interno della nostra azienda ed è un riconoscimento non solo per il prof ma anche per tutti coloro nella squadra del rischio clinico che lavorano ogni giorno con impegno e passione su queste tematiche così importanti. Parliamo adesso di animali perché qualche tempo fa vi abbiamo raccontato la storia di Agostino, gattino salvato dopo un incidente, che adesso ha bisogno del suo lieto fine. Agostino è ancora in attesa di un lieto fine, nel frattempo una mano amorosa lo cura e gli rende la vita più stabile anche se le numerose patologie di cui soffre devono essere semplicemente tenute sotto controllo. Un gioco da ragazzi per chi ama gli animali e soprattutto vuole vederli felici. La storia di Agostino passa attraverso un incidente, numerosi interventi. Oggi è custodito da una persona che attende di poterlo dare in adozione ad una famiglia che lo voglia curare ed amare. Agostino è un gatto davvero miracolato, visto e considerato che è uscito fuori da un incidente terribile. Oggi gioca e vivace, anche troppo perché trascura la sua salute, ma è un gatto capace davvero di dare tanto e allora abbiamo rinnovato la storia del dolce Agostino per cercare un lieto fine. Quello per esempio che ha avuto Gatto Giuliano, il consolatore delle persone, che oggi vive in un negozio felice e sereno ed accoglie per così dire i clienti con i suoi miagolii. Storie di gatti ma anche storie di persone dal cuore d'oro. Gatti quindi protagonisti. Parliamo adesso del volume degli annali della Fraternita dei Laici, ventottesimo volume dedicato a Cosimo De Medici nel trentesimo anno dalla prima pubblicazione degli stessi annali. Una rivista, un libro prestigioso. Nel trentennale dalla pubblicazione del primo volume degli annali della Fraternita viene pubblicato il numero 28 interamente dedicato alla figura di Cosimo De Medici, Cosimo I che nel bene e nel male ha fatto la storia di Arezzo. Questo volume è dedicato a Cosimo I De Medici, granduca di Toscano. Grande granduca, davvero un grande personaggio storio ma pesa il suo comportamento verso Arezzo. Ha portato via la Chimera, ha portato via la Minerva, ha distrutto la bella cittadella sul colle di San Donato e ha distrutto il Domo Vecchio sul colle del Pionta. Un'occasione importantissima perché la presenza di Cosimo nel suo governo nel territorio ovviamente ne hanno modificato in parte anche l'identità e quindi era importante fare il punto della situazione attraverso la pubblicazione degli atti di un convegno che erano già stati in qualche modo preparati dal 2018. La Fraternita è a Arezzo e si dimostra ancora una volta in grado di affrontare le sfide dell'oggi così come di conservare giustamente traccia del glorioso passato della nostra città. Cosimo I è una delle figure più importanti di quella parte del rinascimento italiano, certamente forse la figura più importante della famiglia dei medici, quindi credo che correttamente la città di Arezzo abbia ben fatto ad organizzare questo studio con collaborazioni diversificate e la figura di Cosimo potrà emergere in tutta la sua realtà. Andiamo adesso al Teatro Verdi di Monte San Savino, una coproduzione targata officine della cultura e la filo stoccola tra risate e riflessioni geopolitiche. Breve apologia del caos cattura il Teatro Verdi di Monte San Savino. Dentro un qualunque appartamento di New York irrompe la giungla e la forza bruta del cieco istinto. Dalla penna di Santiago Sanguinetti arriva la storia di un insolito quartetto che sogna un mondo dove il ritorno al caos causato da un virus che rende l'uomo un primate può assegnare un nuovo inizio per l'intera umanità. La versione italiana del testo è curata dalla filo stoccola e officine della cultura e ha fatto tappa anche al Teatro Verdi di Monte San Savino. La filo stoccola e officine della cultura tornano a riproporre dopo un bel successo di quest'estate breve apologia del caos. Questo autore che non è mai stato pubblicato in Italia, noi l'abbiamo pubblicato con la nostra casa editrice e il testo è una trilogia della rivoluzione. Questo è il secondo della trilogia, ecco non sono correlati fra di sé però si chiama Breve Apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan. Un titolo abbastanza breve però torniamo. È molto ritmato, ci sono bellissime luci, l'atmosfera, è tutto molto reale, vivo e presente, quindi è una cosa che magari in teatro sembra un po' strano trovare un testo del genere ma è molto divertente. Tra l'altro la filo stoccola continua a proporre sul palco del Teatro Virginian anche altre produzioni per quanto riguarda la stagione off. Sì, cosa di due giorni, abbiamo avuto questa opportunità di portare il 13 di marzo Nino Formicola che è del duo Gaspar e Zuzurro. È un incontro con lui dove parliamo di 50 anni di carriera. Bene, vediamo quali sono gli appuntamenti di questa sera su Teletruria. Una serata tutta dedicata allo sport. Subito dopo il Tg delle 20.30 Luigi Alberti conduce Domenica Sport, fatti i personaggi e avvenimenti del weekend sportivo. Farà seguito la differita dell'incontro di calcio Città di Castello-Tau-Altopascio valido per il 25esimo turno del campionato di serie di Girone. È tutto per questa edizione del nostro Tg. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi. Grazie.